si è cambiato posto samuele ora siamo alla serpa ora siamo in campagna siamo in campagna come capo a me questo è qualche però questo ha proprio alloce no l'hanno polsuto no 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 dice che si ha delle osce che non gli piacciono lungo giuntato troppo vicino al modello inglese e niente peccato si cambia ha migliorato resta e si andrea ha fatto secondo me più che queste cose vi avevano paura con l'esperienza che avevano visto sua monteroni poi sta pronticando musica l'avvito è bene anche si 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 andrea ma poi c'è più che state le tanti che ci sono riguardiamo l'altro uno eccolo questo è questo è zigulitt e alessandro si 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 bel modello zigulitt poi li guardiamo uno per due ancora questo è la piazza facciamo affermatino questo invece questo è tornadina ciao tornadina ciao tornadina buongiorno poi bellissima giostra questo quello la è non vuole far vedere quattro mori questo questo cavallo che era il carattere di stallo che ce l'ha messo l'ho detto mille volte perché era vero a chiara per lui ragazzi non ce n'era è in pensione questo è mio fratello è perché qui la gente ne ha dei pali e tutta c'è i pali e gli struttori e basta voglio vedere quanti ce l'hanno a pensione gli struttori e chiacchiati intanto io glielo dico sempre che l'hai anche parlare sempre l'ho a pensione si quello è Ted Samaria di Tavallo di Lorenzini questo c'ha cent'anni lui se non mi sbaglio ora poi si chiede a Francesco non mi ricordano 23 anni mi sembra che ci ha niente dei pali chi li so fare c'era tempesta ma tempesta mi sa che l'ha portata giù ad Alessandro ah da squigliari la vecchia squiglia si va eccola ecco ecco ecco